Buonasera a tutti ragazzi. Oggi ritroviamo la casa di San Rocco di Lacciano. La mia concerto di tre campane. Adesso ascolteremo sempre la santa messa delle sei e mezzo. Qui nel frantempo posso vedere questo campanone. Adesso la mezzana, la tre mezzana. Adesso ascolteremo. Batti ora le stesse campanone, poi le stesse le tre campane, poi le stesse le quattro, la distesse la seconda campana. Poi le stesse mezzo, la distesse la terza. Qui nel frantempo la ruota campanata e ascolta tutti. Ciao. Buonasera a tutti. 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 Buonasera a tutti.